Vaccinazione terapeutica I vaccini possono essere usati per trattare il cancro. Quindi sì, questo può sembrare strano perché di solito si usa un vaccino per non ammalarsi, a scopo preventivo. Questo tipo di vaccino esiste per alcuni tumori, tra cui il cancro al collo dell'utero e altri sette tumori. Tutti sono causati da virus chiamati HPV o papiromavirus umani che infettano le cellule e causano il cancro. Nell'immunoterapia useremo il principio della vaccinazione per trattare il cancro durante la malattia, a scopo terapeutico. Le cellule tumorali provengono dall'individuo che è malato, dal self. Sono quindi del self alterato, molto simile al self. Il sistema immunitario le tollera e a volte ha difficoltà a identificarle. Dobbiamo fargli riconoscere l'obiettivo giusto e educarlo. Allora forza, si torna a scuola! Qualunque sia la malattia, il principio della vaccinazione è sempre lo stesso. Educare il suo sistema immunitario perché impari a colpire efficacemente le cellule tumorali. In primo luogo, riconoscere il bersaglio, l'antigene della cellula tumorale. Poi addestrare le nostre cellule ad avere l'anticorpo giusto, l'arpione intelligente per colpire quell'antigene. Yes! Siamo pronti! Per educare il nostro sistema immunitario a riconoscere il bersaglio da attaccare, esistono diverse strategie e tecniche di vaccinazione, che si tratti di tumori o di altre malattie. Grazie a tutti! Grazie a tutti.